Toleranza zero FAS. La posta è alta e si chiama salute. Dopo i recenti rilevamenti sul fiume Po che hanno evidenziato un'allarmante presenza di sostanze per fluoro alchiliche di nuova generazione 2000 volte superiori ai livelli registrati nell'area della Mitene di Trissino, è chiaro che siamo di fronte a un problema nazionale. Serve una risposta urgente e per questo il governo la prossima settimana istituisce un tavolo tecnico formato da Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Veneto come regione esperta. Vedo che alla fine si arriva dove io ho sempre detto che si sarebbe arrivati, vedo con piacere che il Ministro ha deciso di prendere come modello il Veneto che è l'unica regione d'Italia che ha fissato limite zero, ricordo fra l'altro che questo limite zero ci ha costato una trentina di ricorsi contro, perché poi non si dice mai che anche chi da Veneto dice che è sbagliato mettere il limite zero e ricordo che il modello del Veneto che ha più esperienza è un modello spero che venga anche seguito a livello nazionale per porre il limite zero a livello nazionale. Zero europeo e poi l'inquietudine davanti a nuovi inquinanti che magari mentre le sto parlando non sono conosciuti dal mondo scientifico ma che rischieranno di diventare famosi tra qualche anno.